Meno di 24 ore, tanto ha dovuto aspettare il Sicula Leonzio per festeggiare la promozione aritmetica in Lega Pro. Dopo lo stop di Rende ci ha pensato la cavese a stretto giro a regalare ai Cozza Boys il salto di categoria. Clamoroso lo stop interno della formazione di Mr. Longo piegati da Roccella che si aggiudica la copertina del turno numero 31 di Serie D. Un successo pesante in chiave salvezza per gli amaranto di Galati che si portano a sei lunghezze della salvezza diretta. Il capolavoro è firmato Ficarotta, autore di una doppietta e Santa Guida, match winner a pochi secondi dal Gonga. Sorride Roccella, si inguaia invece il Castrovilla ribloccato sullo 0-0 dei cugini del Sersale. Masticamaro, pure la Palmese, fermata dal Pomigliano in casa e dai Legni. Due colpiti in modalità fotocopia da Crucitti. I gol arrivano invece nella ripresa. Bonaddio illude i Neroverdi. Suriano ristabilisce gli equilibri, franando la rincorsa al secondo posto degli uomini. Di Mario D'Altorrione, alle sue buon passo per la Cinus24.